L'operazione è perfettamente riuscita. Ho aspettato il comunicato del Milan prima di mandare questo video, anche se è un po' tardi, per raggruppare tutte le notizie della giornata. La notizia principale è che l'intervento è perfettamente riuscito a Fikaio Tomori. Il giocatore ieri ha subito una lesione al ginocchio sinistro o al menisco mediale, che è il menisco interno, è quello meno invasivo per la carriera del giocatore, mentre il menisco laterale o menisco esterno è già più complicato. Nella sfortuna il menisco mediale permette un ritorno un po' più rapido e, vi assicuro, il Milan sta già pensando ai gradini, al cammino per farlo rientrare il più presto possibile. Ce la farà per il derby? Lo dirà solo la rieducazione. Sapete quello che diceva sempre il dottor Tavana, chi vuole andare in fretta deve andare piano, quindi non si farà nulla per creare problemi alla rieducazione del giocatore. Fikaio Tomori è troppo importante per il Milan, ma indubbiamente si cercherà, nei limiti del possibile, di provare a recuperarlo per il derby. Altrimenti giocherà Romagnoli, che non è ancora negativizzato, ma speriamo che lo sia presto, o Gabbia, con Gabbia, con Calulu e magari con il nuovo giocatore eventualmente, ma poi ne parleremo. Quindi Tomori inizierà già da domani la rieducazione, l'operazione bisognava farlo perché il menisco mediale, dopo gli esami di questa mattina, non permetteva una terapia, l'infortunio al menisco mediale, la situazione al menisco mediale non permetteva la terapia conservativa, magari rinforzando i muscoli, cercando di continuare almeno fino alla fine della stagione. No, si è preferito giustamente, l'hanno deciso i medici, di operare oggi alle 16 alla Madonnina. È stato l'intervento del professor Roberto Pozzoni, lo stesso dottore che ha operato anche Chier qualche settimana fa. Ma adesso la domanda che ci rivolgiamo, che si rivolgono tutti, è il Milan adesso come agirà, i dirigenti del Milan come agiranno sul mercato, visto la situazione che dopo Chier vede la perdita, ma per due o tre settimane, massimo un mese di tomori. Anche qui il Milan, dobbiamo conoscere, ogni proprietà ha le sue caratteristiche. Fossero state la proprietà del presidente Berlusconi e di Adriano Galliani, certamente avremmo visto magari più movimenti sul mercato, magari già nel mese di dicembre. La proprietà, i dirigenti di oggi lavorano in maniera diversa, quindi ognuno ha le sue strategie, al suo modus operandi. Il Milan sta vagliando ancora delle figure. Ieri Maldini, prima dell'infortunio di Tomori, ha detto che vedremo se è il caso di tornare sul mercato o meno. Adesso vedremo se invece, dopo l'infortunio di Tomori, che tipologia di giocatore. Il problema è tutto lì. Seguire la strada del giocatore giovane, giocatore che puoi avere in prestito magari, lo puoi testare qui nel Milan e poi decidere se tenere alla fine della stagione per poi andare su Bremer, giocatore costoso, o andare subito sul giocatore costoso e un giocatore importante già per questi sei mesi e per il dopo Romagnoli. In questo caso, secondo me sarebbe un po', mi sembrerebbe difficile che poi si spendano delle cifre importanti a gennaio e poi a giugno per lo stesso ruolo, conoscendo un po' la proprietà. Questa è la domanda. La domanda, ma probabilmente anche il Milan non ha una risposta in questo momento. Deve vedere se arriveranno delle opportunità, un'opportunità che magari sembrava costosa e magari non lo è più, oppure un'opportunità di un ragazzo giovane e promettente. Quando sapremo questo, capiremo e incomincieremo a cercare la figura eventualmente del giocatore. C'è chi continua a pensare che Diallo possa essere la figura giusta se arrivasse in prestito a fine mese. Però il Milan non si farà prendere certo dalla fretta. In fondo, razionalmente, sono due le partite che potrebbe saltare. Tre, certo, sono importanti. Parliamo di Spezia, parliamo di Juventus, parliamo di Inter. Ma poi lo avremmo ancora pienamente funzionale, insieme affidabile, importante per la difesa, insieme a Romagnoli, a Calulu, che non è più da considerare ormai un giocatore il quinto della difesa, o Gabbia. Anche perché per prendere un giocatore giovane deve essere più forte di Gabbia, deve essere più forte di Calulu e in questo caso potrebbe servire. Per prendere un giocatore a livello di Gabbia, a livello di Calulu, non so che cosa possa essere utile al futuro del Milan. Quindi tanti sono i pensieri, c'è da dire che il Milan non è fortunato perché è il quinto giocatore sottiferri. Megnan, Florenzi, Plizzari, ora due nello stesso ruolo. Bisogna superare anche questi ostacoli, non sono sempre facili, però capire i nomi. Qualcuno insiste ancora con Botman, ancora. non ci credevo, non ci credo, non ci credevo, non ci credo. Vi ho detto io di Diallo, c'è sempre questo Bailey, i colleghi della Gazzetta dello Sport dicono che il Manchester potrebbe anche essere disposto al prestito. Io non lo so se il Milan andrà su questo giocatore, a me non risultava. Però le notizie dell'Inghilterra che hanno i colleghi sono forse diverse dalle mie. Vedremo se Bailey può essere sempre oggi in Coppa d'Africa. Oggi in Coppa d'Africa, nella costa d'Avorio, stessa squadra di Frank & See, potremmo capire se il giocatore verrà nei prossimi giorni. Sapremo, io sono un po' scettico sinceramente su questo nome, sono molto scettico. Vedremo quale sarà. Questo è il mio pensiero, ma è un pensiero figlio di qualche fonte diversa dagli altri colleghi che invece sostengono che Bailey possa essere sempre una pista percorribile. Questo è un giocatore importante. Altri giocatori, Jerry Minà l'hanno già indicato, un altro giocatore che era stato nominato qualche giorno fa. Però Paolo Maldini ha detto una frase ieri. Signori, non c'è nessuno di questi nomi, nomi che avete indicato, nessuno è quello vero. Quindi ecco che cadono come foglie d'autunno, adesso siamo già d'inverno, tutti questi nomi, tutte queste possibilità, tutte queste probabilità. Però dobbiamo pensare. Ecco un errore. Peccato la gente dice, noi diciamo, io non mi metto mai lontano. Il Milan perde Tomori per Juventus e forse Inter. No, errore. Il Milan perde Tomori per la partita con lo Spezia innanzitutto. Già abbiamo, mi metto anch'io l'ambiente, commesso l'errore di pensare alla partita con l'Inter quando c'era in mezzo la partita con lo Spezia. Boato di soddisfazione quando si è fatto ammonire o ha preso l'ammunizione, per meglio dire, Calabria. Bene, così è pronto per il derby. E la partita con lo Spezia l'abbiamo bypassata. Peccato che non l'abbia bypassata lo Spezia che ha dato due perettine al Milan che non, che aveva recuperato Ibra, era una squadra competitiva, che non è letteralmente entrata in campo. Io ricordo la partita con lo Spezia come un incubo perché aspettavo che il Milan entrasse in campo, a primo tempo non è entrato in campo. Poi ho uscito dal campo per bere il tè dall'intervallo e ho detto, beh, adesso è il Milan. Nulla. Due gol meritati da parte dello Spezia che è andato a 200 all'ora e sconfitta che poi con la sconfitta contro l'Inter ha messo il Milan nella condizione ormai di dimenticare lo Scudetto mentre era in grande lotta prima del match contro la squadra Ligure. Ecco, non ripetiamo lo stesso errore. Tomori sarà assente, certo, nelle partite contro la Juventus, forse contro l'Inter, ma innanzitutto è assente contro lo Spezia. Lo Spezia viene qui non per consegnarci su un piatto d'argento i tre punti, viene qua, gioca la sua partita e se il Milan avrà l'approccio deludente, ma è primo a essere deluso il suo allenatore, cioè Stefano Pioli, è il nostro allenatore, cioè Stefano Pioli, e avrà questo approccio, sarà una partita che diventa complicata. Quindi Tomori è assente per la partita innanzitutto con lo Spezia e poi per le altre. Adesso è presto ipotizzare la formazione, bisognerà valutare, certo rientrerà Ibrahimovic, verrà confermato Selemeker, Diaz e a sinistra Leao. Rebic spero che entri per poter mettere benzina nelle gambe, ieri ha fatto molta fatica. in difesa quattro sono e quattro saranno perché Calabria si è allenato oggi, ma è ritornato negativo oggi, dovrà riniziare con il gruppo e poi vediamo, ma certamente non sarà disponibile dal primo minuto contro lo Spezia. E quindi quattro sono, quattro saranno, Calullu gabbia in mezzo, Mignan dietro che ieri non ha avuto niente, ha recuperato Calullu da un problema alla spalla, un problema che aveva un po' preoccupato e poi a sinistra Ballot Touré è positivo, è in Africa, è rimasto solo Theo Hernandez e Theo Hernandez sarà a sinistra con a destra Florenzi, lo splendido monsignor della casa di questi momenti rossoneri. Quindi questa è la, sarà la formazione, ma non ho messo il centrocampo. Alla regola dovrebbero giocare Bakayoko e Cronici. Io non so, non so se Pioli andrà alla regola, andrà sul facile, andrà sullo scontato, andrà sul normale, sul logico, mettendo i due giocatori, o magari si inventerà qualcosa. Ci fosse stato disponibile Calabria? Io mi sarei aspettato anche un Florenzi in quella posizione, ha già giocato a centrocampo, non a due ovviamente, e avrebbe potuto essere un giocatore certamente utile per il Milan lì a centrocampo, per le sue qualità balistiche, non per niente l'ho chiamato monsignor della casa. Però non essendoci Calabria, Florenzi è lì e deve stare per forza lì, senza altra possibilità. Però che il Milan non si inventi qualcosa, perché contro lo Spezia mi sembrerebbe un centrocampo un po' troppo basico, un centrocampo un po' troppo scontato. Krunic e Bakayoko non hanno le qualità di giocatori propositivi, hanno le qualità eccellenti di giocatori frangiflutti, ma in quella posizione tutte e due, credo che il Milan con Selemeker, altro giocatore di corsa, rimarrebbe solo Diaz con Leao e la davanti Ibra. Vediamo, lì devo capire quali saranno le intenzioni di Stefano Pioli. Poi vedremo con l'allenamento di domani e dopo domani, ricordo la conferenza stampa alle ore 14 di domenica, perché il Milan gioca alle 18.30 di lunedì contro la formazione Ligure. Vediamo, ma non sarei sorpreso se Pioli, che ci ha abituato al che sì numero dieci, per esempio, possa studiare qualche mossa per dare una maggiore qualità e proposizione al suo centrocampo. Quindi queste le ultime notizie, ribadisco, il Milan oggi ha immesso il suo comunicato, prima sull'infortunio del buon Tomori e poi sull'operazione perfettamente riuscita. Obiettivo, missione, recuperarlo per la partita contro l'Inter. Attenzione, se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e soprattutto, amici, attivate la campanella, perché così avrete le notifiche, le notizie che ci auguriamo più piacevole di quelle di oggi sui nostri ragazzi sul Milan. Forza lotta, vincerai!